Prosegue il sodalizio artistico e umano tra Scena Teatro e Vladimir Luxuria. Il 14 luglio il regista salernitano Antonello De Rosa e Luxuria saranno ospiti al Gay Village che ha inaugurato ieri a Roma per celebrare i diritti civili della comunità LGTB e non soltanto. È iniziato lo scorso novembre il percorso di Scena Teatro nel solco di una battaglia contro le diseguaglianze intrapresa dal direttore organizzativo di Scena Teatro Pasquale Petrosino con il Cantico degli Esclusi, messa dedicata a tutti gli stromessi dalla comunità cattolica.